Buon sabato 30 luglio Questo vestitino che indosso io ragazze me lo sono preso anche nella versione celeste, mi piace da impazzire, ho anche la versione nera che già mi avete visto indossato, ho fatto pure la foto del look of the day, è il modello con la parte del busto con tutti quanti i filettini elastici, nella parte di sotto il vestito è in giorgetta, è un modello incrociato che però come vedete è un modello. Sotto ha anche una fodera, quindi è in taglia unica questo modellino qui ha un'ottima, ma che dico ottima? Ancora di più di ottima, sotto si è visto un pezzo del reggisino, vabbè fa niente. Ancora di più di ottima la vestibilità per quanto riguarda questo modello che è in taglia unica ragazze è veramente ultra comodo perché questi fili elastici comunque non vi vanno assolutamente a stringere ma si reggono bene. Ma la cosa che mi piace più di tutti è che l'effetto incrociato praticamente parte quasi dal fianco, il che vuol dire che anche se ci fosse una folata di vento allucinante non rimarrei con la gonna che si apre, pur avendo sotto la fodera e quindi non si vedrebbe in qualsiasi caso nulla. Però questa è una cosa che mi piace ancora di più, il tessuto è georgetto ed è freschissimo, la fodera è in sotto, è in tessuto di viscosa quindi tutta fibra naturale ve lo ricordo. Questo modellino qui ragazze eccolo qua c'è anche nella versione con la base nera e sempre i fiori color pastello è il modellino che ha le maniche e che vi ho fatto vedere già indossato nella versione nera con i manicotti attaccati. Poi siccome è venuta Federica e mi ha detto io me lo sono preso, gli ho staccato i manicotti, Manuel la calza benissimo e poi i manicotti volendo ci si può fare un elastico, si possono comunque mettere sulle braccia ma magari li posso anche regolare. Ho voluto fare nella versione celeste quello senza manicotti e quindi sono andata a scucirli questa mattina veloce veloce, procedimento facilissimo perché sono soltanto impunturati, me li sono lasciati a casa, poi qualora mi dovesse andare di metterli o di ricucirli posso farlo tranquillamente perché insomma con un punto risolvo tutto. Allora per quanto riguarda le scarpe che ho abbinato questa mattina, questo vestitino color celeste, color cello, quanto mi piace questo dato, vi dico che ho scelto di metterci lo zuccolettino quello basso con la filettina di strass, quello che calza perfetto, che è la punta squadrata e che abbiamo ancora disponibile ragazze come tutti quanti i sandali che però stanno finendo quindi mi raccomando sbrigatevi, tutti quanti in promo a 12 euro con 99, eccole qua due ci sarebbero state bene pure quelle ma erano senza tacchette quindi ho avviato per questo modellino qui che rimane un pochino più altino. Allora detto ciò ragazze come al solito occhi aperti sulle pagine, occhi aperti mi raccomando sul canale di youtube per vedere quali erano gli articoli che sono stati scaricati in queste settimane passate, se vi siete perse qualche story se la trovate comunque postata sul nostro canale di youtube RGN Lovers e a questo punto vi dico che sono le 13 e 15 circa che il punto vendita a breve chiuderà e riapriremo nel pomeriggio a partire dalle 16 quindi passate il prima possibile se volete avere un assortimento bello vasto per quanto riguarda gli articoli in saldo perché stanno finendo ragazze mie sbrigatevi e poi niente basta a questo punto io vi lascio ci vediamo più tardi RGN Lovers c'è, ci vediamo ciao